ciao ragazze oggi avete fatto una passeggiata vi è piaciuta dove state nello specifico come si chiama questo posto ottimo quanto avete camminato per 10 13 chilometri ok e è faticoso però vi è piaciuto lo rifareste domani vediamo un po che vi ci ha portato ciao luigi ciao emanuele hai trovato questa passeggiata gradevole o problematica no decisamente gradevole dai anzi abbiamo anche il tempo che è stato clemente non come l'anno scorso che anche nonostante la danza della pioggia ma non ha fatto effetto quindi ok c'è un qualche consiglio che vuoi dare alle persone che vogliono visitare questo territorio guarda di scegliere il periodo giusto per la fioritura perché quello è fondamentale perché la fioritura è un mesetto circa giusto dovrebbe essere quindi di scegliere quello quello giusto in base al periodo dell'anno quando c'è sole quando c'è pioggia e di prepararsi bene per la passeggiata scarpe comode macchina fotografica quella non può mancare basta dai da un punto di vista pratico c'è qualche sconsiglio che daresti alle persone che vogliono visitare questa zona o è perfetta per tutte le fasce d'età per qualsiasi tipologia di persona guarda fasce d'età sì perché sono venuto con i bambini e non l'ho trovata difficoltoso perché siamo tutto sul pianeggiante ovviamente si sceglie il percorso della lunghezza adatta a quanto si vuole camminare però i percorsi sono agevoli considerate che siamo in aperta natura quindi non abbiamo servizio non abbiamo altre cose da tenere in mente poi se magari c'è qualche difficoltà nel passeggio allora forse può tornare un po' difficoltà che comunque un percorso in mezzo alla natura quindi ci sono piccole salitine ci sono piccole discese pietrine pietruzze è pianeggiante però se ci sono un po' di difficoltà nel camminare allora magari potrebbe non essere adeguato sconsiglio non fate tardi perché i posti per le auto non ce ne sono tanti quindi svegliatevi presto venite presto altrimenti vi tocca riscendere è perché non c'è tanto spazio da parte della macchina e poi no poi godersi la passeggiata ottimo grazie a te e soprattutto a tutte le local guides che hanno partecipato ovviamente non ce lo dimentichiamo aspetta aspetta prendi il pallone prendi il pallone scende 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 eccolo con il pallone zaino local guides forza ottimo un saluto anche alle piccole grazie a tutti